Allora Mario, io faccio i saluti di fretta e voglio salutare a tutti i miei amici di Facebook, li voglio ringraziare per il sostegno che mi danno sempre, voglio salutare a Tutto Ciao TV, a mio marito Enzo, ai miei figli e io ti ringrazio. Vi aspettiamo lunedì per la classica di Mario Landi e voglio salutare anche alla mia amica Torre, dedica questa canzone anche a tutti. Fuoco di passione, ti dedico. Vai, ciao.